Rosario Patte oggi, lui con i suoi compagni, ha vinto con la Cereale. Il cuore della mediana del Giarre, ora in tempi moderni si dice centrocampo, sia nella fase di interdizione sia nella fase di proponimento, ha la sola unica punta che è quel gioiello di Aleo, quindi tu sei responsabile di lui. Sì, non solo io sono responsabile perché ho anche altri compagni che mi aiutano nella fase di possesso e di proponimento, come ha detto lei. È stata una partita difficile perché sapevamo, era un derby, era sentito da ambedue le squadre, però oggi posso dire che abbiamo messo il massimo che potevamo mettere. Sì, questa oggi è una partita importante da vincere, sia per la classifica, sia perché sappiamo che il derby è sempre una bella partita, quindi aver fatto due gol e essendo un ragazzo di Giarre fa moltissimo piacere. Sì, sì, è una bella emozione, però ripeto, sono contento per me ma sono contento per la squadra perché oggi tutti abbiamo giocato bene, abbiamo dato il meglio e siamo riusciti a vincere questa importante partita. Questo qua penso che è il frutto del grande impegno che mettono i ragazzi in allenamento e anche durante le partite. È dal primo di agosto che i ragazzi sudano e soffrono. Un ringraziamento particolare volevo fare a quei ragazzi che magari si alzano alle 7 del mattino, alle 6, fanno grandi sacrifici lavorativi e poi magari vengono qui alle 3 e mezza ad allenarsi e io li stresso con dei lavori abbastanza pesanti, quindi un ringraziamento particolare a loro che hanno stretto i denti e poi per quanto riguarda la partita penso che abbiamo meritato. La vittoria vale il doppio, giustamente questa qua è una squadra, una società fondata diciamo su un gruppo storico di Giare, questa qua è la dimostrazione che anche con i ragazzi locali, integrati da qualche altro giovane, si può fare bene. Ma guardi, come dicevo ai suoi colleghi, mi preme prima di tutto chiedere scusa ai nostri splendidi tifosi perché noi oggi abbiamo fatto una prestazione impalpabile. Come dicevo prima, si può perdere ma bisogna perdere con dignità, con impegno. Non voglio dire che non c'è stato l'impegno, però in questi campionati se non c'è fame, se non c'è quella cattiveria agonistica non si va da nessuna parte. Puoi avere i migliori calciatori della categoria o anche di categorie superiori, però ripeto, ci vuole tanta fame e tanta cattiveria agonistica. Io credo che noi abbiamo un grande gruppo, una buona squadra, abbiamo scommesso all'inizio del campionato su questo gruppo e ancora oggi non abbiamo fatto nulla, però i risultati ci danno ragione perché credo che con il lavoro e con i sacrifici durante la settimana chi semina raccoglie e quindi grazie a Dio oggi siamo riusciti ad ottenere questo risultato molto importante per il nostro obiettivo che rimane sempre la salvezza, modestamente. Per quanto riguarda naturalmente queste partite fuori casa che facciamo, le raddrizziamo un po' perché mi pare che il campo del Giare è diventato ai tempi di quanto avevamo la C che non vinceva nessuno, abbiamo avuto praticamente un campionato che non ha vinto nessuna, un'impattibilità che non mi ricordo quanto si è durata, due anni, tre anni, una cosa del genere. Ora stiamo cominciando un'altra volta all'impattibilità del Giare che chi viene qua non può né pareggiare né vincere. Speriamo di continuare così, noi fuori casa siamo stati anche un po' sfortunati, vedi Sant'Agata abbiamo avuto tante palle e gol, non siamo riusciti a metterla dentro. In casa magari sfruttiamo qualche palle in più e riusciamo a fare gol di più. Speriamo già dalla prossima trasferta di poter fare meglio fuori casa e di arrivare pure a fare qualche vittoria fuori casa. Papà Nirelli è il tuo primo sostenitore, perché io non lo conoscevo e ci siamo parlati così in tribuna quelle poche volte che lui viene a guardare la partita con una calma serafica, non tifa né per il figlio né per la squadra, la guarda e forse ne trae una conclusione molto più bella di quella che traiamo noi che siamo tifosi, compreso io da giornalista, o meglio da cronista scusami. Allora, sotto questo aspetto, Papà Nirelli adesso cosa vuole fare? Perché io so che è fuori casa, non a giocare, ma fuori casa, fuori da giarre. Lui adesso si trova fuori per lavoro, noi facciamo arredamenti navali, quindi è andato a vedere un lavoro su una nave. Lui mi segue da una vita, gli piace, io ho sempre giocato e con molta umiltà non ha mai interferito in quello che faccio io, però quest'anno si sta entusiasmando sempre di più e spero di farlo avvicinare anche lui come un tempo. Allora, quando il giarre vince, soprattutto con la Cireale, tu hai quella grande dote della notte di dormire dalle mezzanotte fino alle 8 di mattino quando ti alza almeno 7-8 ore oppure ti svegli ogni ora? Ma diciamo che questa notte ci siamo riposati a metà perché il derby con la Cireale è sempre un derby e quindi ha un sapore particolare. La vittoria di oggi chiaramente ci dà molta felicità. ripeto, il mister durante la settimana ci ha preparati abbastanza bene e noi volevamo a tutti i costi portare questa vittoria in casa. Parlavamo della notte antecedente, ora parliamo della notte successiva, questa notte. Questa notte sarà una bella notte e si dormirà molto tranquillamente ognuno nelle sue case sperando già di pensare da domani, pensare già alla prossima partita. Tanti auguri e in bocca al lupo. Crepe, grazie a voi.